È uno strumentale di amore d'amici. Billy McKaylor era un mio vecchio amico, era un ex marine, aveva un bel ginocchio e nebulina e lavorava gratis per una titta di strumenti musicali per la quale facevo dimostrazione ai vari seroni della musica ed era prima di arrivare l'ultima ragazza, tutto gratis. Badava a che tutti fossimo ben nutriti perché diceva che un uomo deve avere almeno tre castigioni. Allora arrivava alle due di notte con la pizza e altre cose. Se l'è portato via un tumoraggio un po' di anni fa e una notte ho scritto questo pezzo da lui che si titola come suboglione McKaylor. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.